Un morto e rivolta nelle carceri, omicidio dietro le sbarre, venerando presidente per la Banca Popolare del Frusinate. Ben trovati al TG, ancora caos al carcere di Frusinone dove contestualmente alla diffusione della notizia della morte per suicidio di un detenuto italiano di 62 anni è scoppiata una rivolta in due sezioni dove tutti gli ambienti sono stati allagati con gli idranti e sono stati rotti vetri e telecamere di sorveglianza. Disordini anche nel carcere di Cassino con i detenuti di una sezione che hanno bruciato i materassi e le suppellettili prima dell'azione dei poliziotti del gruppo di intervento. Polizia penitenziaria sotto organico, mancherebbero 652 agenti nel Lazio, sovraffollamento nelle celle e detenuti psichiatrici spesso fuori controllo, situazione sempre più allarmante. Per la morte di un altro detenuto, Manuel Pignatelli, 34 anni, di Ponte Corvo, avvenuta lo scorso 12 maggio a carcere di Frusinone, la procura del tribunale avrebbe aperto un fascicolo di indagine per omicidio dopo la denuncia della madre e della sorella, convinte che non si sia suicidato come a loro riferito e come risulta dalle indagini svolte. Il magistrato ha disposto l'autopsia e una serie di accertamenti tecnici irripetibili, il detenuto doveva scontare solo un residuo di pena. Il banchiere di lungo corso Carlo Salvatore, 83 anni, di Sora, nelle immagini di una vecchia intervista, già presidente di Lazare Italia, Banca Monteparma, Allianz Assicurazioni e già amministratore delegato di Banca Intesa, è il nuovo presidente in pectore della Banca Popolare del Frusinate, che ha comunicato l'intenzione di cooptarlo nel consiglio di amministrazione, da cui si sono dimessi irrevocabilmente Massimo Chiappini, Angelo Faustini e Pasquale Specchioni. Un'auto di grossa cilindrata ha preso fuoco per un provabile cortocircuito mentre percorreva la via Montilepini al confine dei territori delle province di Frusinone e Latina ed è stata distrutta dalle fiamme nel giro di pochi minuti. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare e a mettersi in salvo. È di circa 50.000 euro il bottino del furto della cassaforte al supermercato Jacob di Arce a pochi giorni dal furto in fotocopia al supermercato Carrefour di Anagni con bottino di 30.000 euro. I carabinieri visionano le immagini delle telecamere di videosorveglianza con il furgone rubato usato come ariete per sfondare la saracinesca e la fuga su un'auto di grossa cilindrata. Rubata due volte, l'ultima nel 1994 e due volte recuperata, la scultura della Madonna Ligna lascia Vigo nel Lazio per il restauro e la successiva esposizione a Palazzo Braschi a Roma in occasione del Giubileo. L'opera artistica è stata realizzata mille anni fa. A risentirci alla prossima edizione. Grazie. Grazie.